Pomi d'ottone e i manici di scopa. A più tardi. Siete appena rientrati? Eh sì, purtroppo sì, Gerry. Dove eravate? Ma, un po' in vacanza, sai com'è. Ma lo sapete che c'è chi vuole essere milionario? Onestamente non ci pensavamo, ma adesso che me lo dici? Non ve lo dico più. Ok, ok, lo dico io. Chi vuole essere milionario, domenica alle 20.40 su Canale 5. Solo domani TV Blue Sky a 129 euro. E in più, con carta pass, 10% di sconto su tutta la spesa. Carpool, con dei prezzi così, esagerate pure. Ciao, mamma. Ciao, amore. Cos'hai fatto oggi a scuola? Niente. Lui dice sempre niente, ma io so che a scuola fa tanto. Per questo gli do Kinder Brioche, l'unica con la doppia farcitura al latte, in un pane lievitato naturalmente. Kinder Brioche, nutriente ma leggera. Dici niente. Sai, ti spaventa finché sei in casa, prima di uscire, e ci pensi su. Ma quando ti ci butti in mezzo? Io non ho paura quando sono in sella, all'ipodromo, perché sto facendo il mio lavoro. Hai mai avuto questa sensazione? Intendi qualcosa come incontrare un altro squalo? Sì. Sì, è quello che penso quasi sempre, quando sono là fuori. Ma quando le onde sono davvero fantastiche, allora... Nel mio intimo c'è Cilli. Voglio ogni giorno una vita diversa. Voglio protezione. Voglio ballare. Voglio freschezza. Voglio Cilli. Cilli Intima Gel mi dà freschezza e vitalità a lungo. Oggi anche Cilli Intima delicato. Nel mio intimo c'è Cilli. Signore, signore, gli alieni vogliono abitare sulla terra e vogliono trattare solo con... Gabetti, l'immobiliare da contattare. Gabetti, casa. Dal regista dell'orso, una storia straordinaria sul legame tra fratelli e sul potere dell'amicizia. Deve restare nella giungla. Promettimelo. Due fratelli. Morbide! 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 Arrivano le nuove galatine soft. Le morbide al latte e al gusto di fragola. Morbide! Galatine. Da oggi anche soft. Morbide. Signora, lei che detersivo usa? Dasce. Bianca purezza con bicarbonato. Ed è favoloso, guardi. È magico. Sono convintissima. Cosa le dà? Un pulito profondo. Un bianco che... Splendente. Per me è il plus ultra. Questa cosa di mettere il bicarbonato dentro le dasce. Eccezionale. È perfetto. Qualcosa di miracoloso. Per quanto riguarda l'igiene qua siamo sicuri. Sì, al cento è uno per cento. Elimina tutte le impurità. Ecco perché le dico che questo è magico. Ha fatto martire di testa tutti. Don't touch my veil. Novità da Vileda. Rapid Attractive. Il nuovo modo di pulire i pavimenti. Riempi la bottiglia con acqua e il tuo detergente preferito. Premi il grilletto, spruzza e via. Pavimenti puliti senza fatica e senza secchio. Rapid Attractive. Da Vileda. Il muesli Vitalis è così buono che non vedi l'ora di mangiarlo. Croccanti cereali e tanta buona frutta per una colazione coi fiocchi. Vitalis, il muesli coi fiocchi. Insieme faremo la storia. Un cast d'eccezione. Lo sceneggiato vincitore di due Emmy Awards. Il racconto inedito della gioventù del Führer. E della sua scesa al potere. Lei non è altro che un piccolo caporale boemo. La storia di un uomo, di un popolo, del folle sogno di una nazione. Mai nessun compromesso con gli ebrei, mai! Robert Carlyle, Peter O'Toole, Matthew Modai. La cosa peggiore in assoluto è non fare niente. Il giovane Hitler. Prima TV Rete Patria. Mercoledì e venerdì alle 21. Mercoledì e venerdì alle 21.